La divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino ha sequestrato beni mobili e immobili, il cui valore è stato stimato in un milione di euro, riconducibile a un personaggio già noto alle forze dell'ordine, considerato elemento di spicco della criminalità locale, dedito da molti anni alla commissione di delitti e principalmente al reato di usura. Il provvedimento di sequestro, finalizzato alla confisca dei beni, è stato emesso dal Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, su proposta del Questore, ha riguardato tre appartamenti dislocati a Venaria Reale a Torino, tre box auto, tre autovetture, un motociclo e 14 rapporti bancari tra conti correnti, titoli e cassette di sicurezza per un valore complessivo di quasi un milione di euro. L'arrestato si è reso responsabile di diversi reati di natura predatoria già dal principio degli anni 70. In quelli seguenti era stato sottoposto a sorveglianza speciale a causa di una serie di gravi delitti contro il patrimonio e la persona. Negli anni 80 la sua prima condanna per una serie di forti aggravati e poi ancora a distanza di poco tempo un ulteriore pena a sei anni di reclusione per aver commesso due rapine ai danni di gioiellerie del torinese. Dopo un periodo di carcerazione, tornato in libertà, ha continuato la sua attività malavitosa rendendosi nuovamente responsabile di numerose rapine commesse nelle province di Firenze e Torino, inserendosi poi in un contesto criminale riguardante prestiti di denaro ad elevato tasso di usura. Nei confronti dell'uomo è stata avanzata anche la richiesta al vaglio del Tribunale di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un periodo di quattro anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.